Ciao ciao a tutti del video! Allora, sto resistendo qua perché ho lì a Ben Travel e sono arrivato a 700 metri che non c'ero mai arrivato e allora ho detto, beh, allora devo registrare questa parte qua che sono arrivato adesso magari casco subito però almeno sono arrivato a 700 metri Saltiamo! Ok Queste tendine rosse Ok E con me c'è anche Jacopo Ciao Jacopo adesso è poco fa, è scivolato giù adesso sta No, aiuto, aiuto Ah, frischio Qua dove devo andare? Di qua o di là? Ragazzi, non ce l'ho di vederla No! Va bene, la parte egiziana vabbè, c'è la checkpoint per arrivare la parte egiziana Il gatto mi vuole tirare giù La statua di gatto Ragazzi, svidio a 629 metri Un like, un like Attenzione Oh Allora Sono... eh... Sì, ma sta scala è storta però C'è ragazzi Ma che architetto l'ha fatta queste cose? No, 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 godo Godo, godo Godo, godo Godo, godo E basta Allora Attenzione Sviro, cioè, quasi hai raggiunto Un'altra volta il tuo record E lo puoi anche superare Se lo superi, sei il got Sì, se lo devo fare Sì, se lo devo fare Sì, aspetta L'ho superato No, no, aspetta Sono 711 Eh Il tuo record? Sì, 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 sì Ecco, è qua che ho detto Vado la roccia lì Oppure salto là Eh Ah, aspetta No, ma non è po... Non è possibile Attenzione Allora, ragazzi Eccoli Attenzione che sono a buon punto 618 Eh, beh Vabbè, devo ancora arrivare 700 da lì Sì, però Però non cadrò mica adesso Non lo devo dire Però sta cosa Cosa il video non dovrà mai dire Lo scopriremo Su, su, su No, non devo dire che Ho detto Non cadrò proprio adesso Eh, allora Ora sviluppo Attenzione, eh Sono 647 Sì, 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 sì Ah, qua c'è la scalastorta Qua Vabbè Opla E opla Prudododo 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 Qua Qua Ah Le coppe rovesciate Allora 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 Ecco Ecco E allora E' qua Che sbaglio Se Cioè O provo a saltare Sul cubo di roccia La Prima Quando ho fatto Di là Sono sempre caduto Quindi provo a rivalere La roccia Lì Prendendo la rincorsa Ok Perfetto Quindi Questo E' il mio record Ragazzi E vai Signori Svedece L'ha fatta Allora Settecento Aiuto No Si Devo Un bel All'ultimo Il checkpoint A quanto è Ci sei vicino Ci sei vicino Come è fatto No No Ma come era fatto Quel coso lì Ma Niente No Niente No No Che lavoro Che lavoro Che lavoro Che lavoro Va bene Un saluto Da Svidio E da Jacopo Jacopo Che è a 1067 metri Buono No Io ne ho fatto Il massimo 730 Quello che erano Buono Ciao a tutti